Oggi, venerdì 25 novembre 2022, è il 329esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano esattamente 36 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno è Caterina d'Alessandria Martire, protettrice di sarte, oratori, filosofi, modiste, filatrici, notai e carradori. Recitiamo insieme questa preghiera a lei dedicata. Santa Caterina d'Alessandria, Vergine e Martire, che hai testimoniato con il sangue il tuo amore al Signore Gesù e alle verità della fede, intercedi per noi presso Dio perché ascolti la nostra preghiera e la esaudisca. In te, sapiente e forte, contempliamo la donna che ha annunciato, davanti ai potenti del suo tempo, Cristo Redentore dell'umanità, nonostante le minacce di morte e la persecuzione violenta. Prega per noi perché siamo testimoni fedeli di Gesù, Salvatore del mondo, nel tempo dell'indifferenza e del relativismo. In te, nobile e bella, contempliamo la donna che ha rifiutato le lusinghe terrene al fine di conservare intatta la verginità del cuore e del corpo. Prega per noi perché custodiamo la purezza della vita rispingendo la tentazione della triplice concupiscenza, della superbia, degli occhi e della carne. In te, giovane cristiana, contempliamo la donna che ha donato al Signore il fiore degli anni, camminando in santità nella prima stagione della vita. Prega per noi perché accogliamo tutto il tempo che Dio ci dona come grazia da non sprecare, chiamata quotidiana a compiere, con adesione pronta e generosa, la sua volontà. Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti